Ciao e benvenuti in un nuovo video. Io sono Bingo e oggi facciamo l'alberello di Natale origami. Bisogna prendere un foglio quadrato e piegarlo nelle sue diagonali. Poi si piega così, ecco così e così. Ecco qua. Poi guardate bene, si prende qua in mezzo, uno e anche dall'altra parte. E due. Ok, anche le altre. Di nuovo, ecco qua. Così prepariamo le piegature per fare poi l'alberello. Ecco qua. Voilà. E l'ultimo. Uno e due. Ok. A questo punto si va qua in mezzo. Ecco. E voilà. Ok? Abbiamo una cosa così. Facciamo da tutte le papi che abbiamo fatto. Ecco. Hop. Voilà. Di nuovo. Ecco. Anche qui. Ecco qua. E l'ultimo. Eccolo qui. Ok. A questo punto abbiamo una situazione così. E bisogna tagliare via la parte superflua di qua. Così. Ecco qua. Guardate, eh. Vederlo bene. Però facciamo così. Ecco così. Ok. Prendiamo un paio di forbici. Io ho queste. Ecco qua. E tagliamo tutta questa parte qua. e voilà, via questa parte qua non serve questo sarà il nostro pinetto vedete, già è conformato diciamo però c'è ancora una bella dose di finezze cioè dobbiamo fare, allora dobbiamo piegare così a metà, ecco e tagliare, fare tre taglietti logicamente alla stessa altezza quindi facciamo un taglio qua, ecco un taglio di qua un taglio più o meno a metà, ecco un taglio in corrispondenza dell'altro ecco qua, perfetto e poi un taglio verso il fondo così ecco qua e anche qua, voilà ecco qua questo, questi tagli ci permetteranno di fare la finezza cioè, guardate, adesso andiamo a prendere uno alla volta e vedete, pieghiamo l'angolo superiore del taglio così, tac tac, tre volte perché tre sono i tagli ecco qua e uno poi e due e tre e quattro e continuiamo fino a quando non abbiamo finito così così ecco ecco qua arriva l'altro voilà ecco e piano piano vedete che si viene a delineare proprio un bel pinetto questo questo l'ho scoperto mentre ero in quarantena adesso dicembre e quindi ne ho fatti a bizzeffe per i miei per il presepe per per la in giro per la casa ecco qua e è finito voilà guardate un po' che bello che viene vabbè adesso l'ho fatto giallo però logicamente verde è straordinario o bianco tutto innevato eccolo qui faccio vedere proprio da vicino wow eh e voilà se volete altri video così fatemelo sapere comunque iscrivetevi al canale attivate la tua campanella e basta seguitemi ciao ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao